Questa sera, l'altra volta, ti auguri ai te, siamo al più di sovente, tranquilla, usci la prossima estate, per andare direttamente a Porcocellu, e già, e già, e già, e già, ma noi facciamo tante telefonate la notte, il giorno, ma io sono disperata, con chi vanno adesso la notte? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.